Grazie veramente per essere qui e grazie anche per la pazienza. Allora iniziamo subito, oggi parleremo di piante e spero di dimostrarvi, di farvi vedere le piante da un punto di vista un po' nuovo, almeno mi auguro. C'è un problema fondamentale per quanto riguarda le piante, il fatto è che le piante sono state normalmente ignorate e sottostimate, diciamo così, sottostimate però è veramente un eufemismo nell'ambito della loro storia. Se noi guardiamo, questa prima immagine che vi ho portato sono alcune famose pitture rupestri, queste sono alcune pitture che provengono dalla grotta di Chauvet, da Altamura e da altre e sono semplicemente in rappresentanza delle migliaia e migliaia di immagini di pitture rupestre che noi conosciamo. C'è una caratteristica comune in tutte queste pitture rupestre, voi non troverete mai la rappresentazione di una pianta, non ce ne sono, non esistono rappresentazioni di piante, sono tutte quante rappresentazioni di animali e di uomini, alcune sono bellissime, vedete come queste della grotta di Chauvet sono veramente, ho questo bisonte di Altamura, sono straordinarie rappresentazioni artistiche e quindi uno ci si sarebbe aspettati che quando si rappresenta delle cose belle ci fossero anche le piante, invece le piante non esistono mai. Questa cosa perché la racconto? Perché credo che sia già significativa del fatto che l'uomo di per sé, di per sua natura, e ora cercherò anche di spiegare il perché succede questo, non si accorge del fatto che esistono le piante. La questione è risaputa da tantissimi anni, se guardiamo tutta la storia dell'uomo, le piante hanno avuto un'importanza, diciamo hanno avuto un'importanza pratica fondamentale, ma insomma che le piante siano importanti fondamentalmente non starò neanche a ricordarvelo, senza le piante non c'è vita. Ma nella storia dell'uomo il posto delle piante è stato del tutto marginale, sempre. Nella storia, nella Genesi per esempio, quando si racconta il diluvio universale, il fatto, Dio non dice mai, guarda prendi a Noè, prendi anche delle piante. Se andate a vedere il film di Noè con Russell Crowe, quello che c'è ora, io non l'ho visto, ma sono certo che in quel film nessuno si porterà dietro una piantina di vite. Non viene mai rappresentato, cioè non fanno parte del creato. Eppure Noè, la prima cosa che fa poi quando le acque calano, pianta una vigna, quindi se le rapportate le piante dietro. Però non fanno parte delle creature che devono essere salvate. Questa è comune a tutte le religioni, diciamo grossomodo a quelle monoteistiche, per esempio il Corano vieta la rappresentazione delle creature viventi, la rappresentazione artistica delle creature viventi, e infatti non troverete mai un'arte islamica con rappresentazione di uomini o di animali, e invece è tutto un florileggio. Implicitamente, quindi, le piante non fanno parte anche lì del creato. C'è una lunga, diciamo, storia di sottostima delle piante che è, vi dicevo, legata in parte anche al fatto a come funziona il nostro cervello. Queste, ora io vi faccio vedere quattro diapositive in rapida successione, che fanno parte di un test che è stato sottoposto qualche anno fa, tre o quattro anni fa, a un gruppo molto numeroso, erano più di 1500, credo tra i 1200 e i 1500 studenti universitari dei primi anni, americani. E queste sono le immagini, una, due, tre, quattro. La domanda era, che cosa avete visto in queste immagini? Ora io non la posso fare a voi perché voi siete prevenuti, siete venuti qui sapendo che io parlo di piante, e quindi siete tutti quanti furbi, un sacco di piante. Però se voi, se io stasera la stessa cosa la facessi lì da Cacciari, dico scusa Massimo, aspetta un attimo, e mostro queste cinque diapositive e poi dico cosa avete visto? Il 94% del pubblico mi direbbe che ha visto in sequenza due cerbiatti, un'alce, una rana, e su questa diapositiva qui, questa che rappresenta due esseri umani, il 99% delle persone rispondono c'è un signore e una ragazza, ci sono due persone, ci sono due esseri umani. Ora cosa hanno in comune queste diapositive che io vi ho mostrato? È che perlomeno l'80% dell'immagine è composta da piante, eppure nessuno le cita. Perché? Come mai? Che differenza c'è fra un cerbiatto, un'alce e delle piante? Capisco le persone, d'accordo, noi facciamo parte di questa specie, ma perché ci accorgiamo dei cerbiatti e dell'alce e non ci accorgiamo delle piante? La questione è proprio legata a come funziona il nostro cervello. È una, non si può chiamare patologia perché proprio è il modo in cui il nostro cervello funziona, ma questo è un fenomeno noto, si chiama plant blindness. cecità alle piante, ed è dovuto al fatto che il nostro cervello recepisce in camera, diciamo attraverso i nostri organi di senso, una quantità di informazioni molto più elevata rispetto a quella che può elaborare. Quanto più grande? Ordini di grandezza. Pensate che soltanto attraverso i nostri occhi entrano 1,5 gigabyte di informazioni al secondo nel nostro cervello e il nostro cervello è uno scatorcio che è in grado di elaborare 300 byte, niente. Qualunque calcolatrice da orologio è incredibilmente più potente come calcolo. Allora dov'è che è straordinario il nostro cervello? Nel filtrare via tutte le informazioni che non sono ritenute fondamentali, interessanti. E noi, pensate, ci siamo evoluti insieme alle piante, cioè l'uomo è cresciuto, è apparso per la prima volta nella savana, si è evoluto insieme alle piante e ha imparato a non notarle, perché le piante non sono pericolose. Questo è il punto, cioè non c'è una necessità evolutiva di accorgersi delle piante, mentre c'è una necessità evolutiva molto forte di accorgersi che ci sono degli animali che magari ci vogliono attaccare oppure degli altri uomini con i quali ovviamente abbiamo un sacco di affari in comune. Quindi il nostro cervello ignora le piante. Questa cosa ci è molto servita nel corso della nostra evoluzione, perché appunto ci impediva, ci eliminava una massa inutile, diciamo, un carico inutile di informazioni per il nostro cervello, ma oggi la questione è completamente l'opposto. Cioè noi siamo in una situazione paradossale in cui non ci accorgiamo in realtà della vita sul pianeta. Che cosa intendo per vita sul pianeta? Intendo questo dato stratosferico che il 99,9% della biomassa del pianeta è formata da piante. Che cosa vuol dire 99,9%? Vuol dire che se io prendo tutti gli esseri viventi e li peso su una bilancia, quindi non è il numero di specie, ma proprio il peso, prendo tutti gli esseri viventi, li peso, il 99,9% sono piante. Lo 0,1% non è niente, gli animali rappresentano una quantità assolutamente irrilevante della vita del pianeta. Ora, ovviamente noi siamo animali, noi siamo uomini, ne siamo anche orgogliosi, come è giusto che sia, però voglio dire abbiamo una visione che è un po' troppo, fortemente antropocentrica, perché, pensate a un, a veramente, io faccio sempre questo esempio di un alieno che arrivi in orbita intorno al nostro pianeta per studiarne la vita. Che cosa potrebbe scrivere veramente sul suo librettino di bordo? che la Terra è un pianeta verde, ha una vita vegetale e in cui poi appaiono ogni tanto delle tracce, perché 0,1%, sinceramente in qualunque tipo di analisi è tracce, di una vita che è animale. Dal che ne consegue un'altra domanda che dobbiamo porci. siccome in biologia, e quindi nello studio della vita, l'unico e vero modo per calcolare il successo di una specie o di un gruppo di specie è vedere la sua diffusione in un determinato habitat ecologico, allora se prendiamo l'habitat Terra, le piante hanno un successo, non lo so, che non ha paragoni, 99,9% contro 0,1% è nulla, 0,1% non è da considerare. Dobbiamo farci un'altra domanda, com'è possibile che un gruppo di organismi viventi che noi non percepiamo, che noi non consideriamo e che quando consideriamo, consideriamo a scopi esclusivamente ornamentali o roba del genere, cioè noi riteniamo in effetti che le piante siano, sì, quando va bene, delle cose carine, belle, ma assolutamente passive, che non hanno alcuna forma di cognizione, uso termini che sono forti quando poi li applicheremo alle piante, coscienza e intelligenza, perché non hanno alcun tipo di possibilità di interagire con l'ambiente che li circonda. Questo è quello, diciamo, quello scopo di questi minuti che passeremo insieme e cercare di dimostrarvi che questo assunto di base è sbagliato. Allora, questa è una tabella che io mostro molto spesso. Perché? Perché nonostante sia un codice rinascimentale, questa è una tabella che viene, è un'immagine che viene da un codice del 1536 e mostra la cosiddetta scala della natura, l'ordine della natura. Che cos'è quest'ordine della natura? Ve lo dico molto velocemente. Vedete, c'è, si parte dalle pietre che stanno qui all'estrema sinistra che sono e basta, est, e poi abbiamo le piante, est e vivit, che vivono, e poi abbiamo gli animali che sentono e in cima a tutto l'uomo che è intelligente. Addirittura quello, vedete, è l'uomo studiosus. Quindi è, lo vedete, è l'uomo in cattedra. E quindi saremmo io e i miei colleghi e rappresenteremmo la somma dell'evoluzione del creato. La cosa è incredibilmente stupida e ridicola. Vi farei vedere che colleghi che ho. Ma è tutta sbagliata. Voi direte, vabbè, ma è una tabella del 1536. Chi se ne frega. Nel 1536, se tu mi avessi fatto vedere uno schema del mondo, ci avremmo visto la Terra in mezzo e il Sole e tutto il resto che gli gira intorno. Bene, io ve la faccio vedere perché mentre per l'astronomia, grazie a Copernico e a Galileo, questa rivoluzione c'è stata ed è entrata nella cognizione di ciascuno di noi, cioè nessuno di noi, a meno di quattro pazzi che continuano a esistere, direbbe che la Terra è il centro dell'universo e tutto gira intorno alla Terra, nessuno lo direbbe. Invece questa storia qui, questa qui è il concetto comune. Normalmente tutti quanti, quando dico tutti quanti, diciamo, ovviamente escludo quei presenti in quest'aula, credono che la questione funzioni in questa maniera, che sia proprio così, che l'uomo sia intelligente, poi gli animali un pochino meno, le piante, e poi le pietre, e vabbè. Ora, per esempio, un rapidissimo cenno al fatto che le piante sono vive e gli animali sono sensibili, sentono, e invece le piante no, che è un concetto comune. Se chiedete, anche qui, io quando dico sempre se chiedete, se chiedete, faccio riferimento a dei testi che effettivamente abbiamo fatto, io anni fa fondammo una società che si chiama Society for Planned Signaling and Behavior, che ha fatto di questi test negli Stati Uniti. E quando, anche lì, se chiedete a 100 persone, media, a un campione medio, ma le piante sono sensibili, troverete il 3-4% di persone che vi diranno sì sono sensibili, che però sono per lo più un po' fra fricchettoni e New Age, ok? Che dicono? E' certo. Il resto, diciamo, dicono no, assolutamente le piante non sentono nulla. Questa cosa qui è una stupidaggine immensa. Le piante sentono il mondo intorno a loro in una maniera estremamente più raffinata di qualunque animale. Su questa affermazione io sono pronto a sostenere qualunque contraddittorio. E c'è un motivo fondamentale e di base del perché deve essere così. Gli animali, noi, tutti animali, se qualcosa succede, qualche cambiamento nell'ambiente accade, rispondiamo con una, abbiamo una risposta che viene chiamata stereotipata, che è come dire non richiede neanche il nostro cervello, che è la fuga. Se ora qualcuno entra di là e dice al fuoco, noi non è che ragioniamo. La prima cosa che facciamo scappiamo tutti quanti. Questa è una risposta stereotipata, è riflessa. Le piante non hanno questa possibilità. Le piante, se qualche cosa cambia nell'ambiente, non possono prendere e andarsene via. E allora come fanno, come hanno fatto a sopravvivere in questa maniera così straordinaria, sempre perché questa è la domanda che dobbiamo sempre porci, come hanno fatto a conquistare la quasi totalità del mondo, il 99,9%, com'è possibile questo? Bene, questo lo hanno, lo possono fare perché sono incredibilmente sensibili. Cioè, cosa intendo per sensibili? Sentono, non soltanto quello che noi normalmente sentiamo, ma sentono una serie di parametri, fisici e chimici su cui noi non abbiamo alcun controllo, che ne so, in questa sala ci sono dei campi elettrici e magnetici, voi li sentite? No, non li sentiamo, pochi animali riescono a percepirli. I gradienti chimici, noi non li percepiamo. Cioè, se, che ne so, qui dentro ci fosse nascosto 50 chili, 100 chili di nitrato d'ammonio, una tonnellata di nitrato d'ammonio, noi non ne avremmo idea. se ci fosse del mercurio, se ci fosse del fosforo, dei fosfati, se ci fossero dei batteri dannosi per la nostra vita, noi non ne avremmo alcuna idea, non li percepiamo. Le piante percepiscono questo e lo percepiscono in una maniera che è straordinariamente sofisticata, sensibile. Intendo dire che in un, in dieci metri cubi, dieci metri cubi sono tanti, di terra, una radice di pochi centimetri di mais è in grado di percepire un milligrammo di nitrato d'ammonio che sta dalla parte completamente opposta. Quindi, un milligrammo di nitrato d'ammonio è un granello di sabbia in dieci metri cubi di terra. Bene. Quindi, una sensibilità completa, continua che si ritrova dappertutto. E poi, ovviamente, le piante riescono a sentire decine e decine di migliaia di molecole chimiche volatili, riescono a percepire i suoni, emettono suoni, eccetera, eccetera. Ma io non vi chiedo di credermi su questo, vi mostrerò ora delle cose che spero vi potranno essere utili. Allora, questo è il primo punto che dobbiamo capire. E poi, come dire, questo è, gli americani dicono, il messaggio da portare a casa. Primo messaggio da portare a casa, l'evoluzione non funziona in questa maniera, come normalmente la percepiamo, ma funziona in questa maniera. Che cosa dice? Questo è il famoso, è l'alberello di Darwin. Che cosa dice questo alberello qui? Dice, esemplificandolo in maniera estrema, che qualunque essere vivente oggi, viva su questo pianeta, è all'apice del suo ramo evolutivo. E quindi, come tale, a pari dignità, a pari, diciamo, grado di evoluzione. Non c'è differenza di evoluzione fra un batterio e l'uomo. Perlomeno, questa è una questione che lo so che sembra strana, sembra, come dire, incredibilmente complessa anche da percepire. ma come non c'è differenza fra un singolo, un organismo unicellulare e l'uomo, la differenza è enorme fra questi due organismi, è enorme. Quello che non è differente è il grado di evoluzione. Il grado di evoluzione è lo stesso. Un punto fondamentale che ci impedisce di percepire il perché le piante sono degli organismi sofisticati è il fatto che si muovono molto ma si muovono su dei tempi che sono diversi dai nostri, dei tempi molto più lenti. Basta velocizzare i movimenti delle piante per accorgersi di comportamenti molto sofisticati. Io ve ne farò vedere qualcuno. Cominciamo da un movimento, questo è un movimento che non è stato accelerato, questo è un movimento che molti di noi conoscono, questa è una pianta carnivora, si chiama Dionea, ci sono dei pelini, quando vengono toccati quei pelini questa trappola si chiude e cattura l'insetto. Questa pianta, un velocissimo inciso per raccontarvi due parole su questa pianta, questa pianta è una pianta che è originaria degli Stati Uniti, arriva in Europa intorno alla metà del Settecento, 1750, Sessanta, portata da alcuni mercanti, viene mostrata a un famoso botanico inglese che si chiama Ellis, il quale la mostra istantaneamente a quello che allora era il padre eterno della botanica, ma non solo della botanica, il padre eterno delle scienze naturali che era l'inneo, colui che ha dato il nome a tutti gli organismi viventi, il nuovo Adamo. L'inneo vede questa cosa qui e siccome anche l'inneo stesso era fortemente convinto di quell'ordine della natura che abbiamo visto prima, e questa cosa qui contraddice quell'ordine della natura perché abbiamo come dire una pianta che caccia un animale, ne comincia a dire di ogni, veramente comincia a dire una serie incredibile di stupidaggini e quindi veramente il detto ogni tanto anche Omero dorme è vero quindi una persona un genio come l'inneo pur di non ammettere che quello che vedeva era una pianta che cacciava un animale comincia a dire delle cose del tipo che questa chiusura delle tranne non è una trappola ma questo è un movimento riflesso qualcosa simile a quello della mimosa pudica non so se ce l'avete presente che chiude le foglioline quando la toccate e allora dice dice l'inneo non è che questa pianta chiude le foglie perché vuole cacciare l'insetto è un movimento riflesso lui chiude lei chiude le foglie e l'insetto rimane lì dentro e muore probabilmente alcune volte dice anzi alcune volte muore il suo questa è tutta una corrispondenza molto divertente che andrebbe pubblicata c'è il suo corrispondente Ellis dall'Inghilterra e gli dice maestro ma che dice questi quando si apre questa trappola l'insetto è succhiato non c'è più se lo è digerito completamente ribasto soltanto lo scheletro l'esoscheletro secondo me queste piante mangiano gli animali allora lui c'è tutta una cosa lunga fino a quando a un certo punto ve la faccio breve questa storia dice basta mi hai scocciato e letteralmente gli scrive così ad Ellis mi hai rotto le scatole questa cosa qui non è possibile che mi stai dicendo evidentemente se c'è qualche animale che ogni tanto rimane lì dentro e muore è perché sono degli insetti anziani che sono stati catturati e non hanno avuto la forza di uscire e lì Ellis che era tignoso veramente tignoso gli riscrive una lettera e gli dice maestro non possono essere insegnati perché io gli ho dato degli insetti giovani da mangiare e lui e se li è mangiati e se li è succhiati comunque nella stessa maniera e allora lì Linneo tocca l'apice della stupidità va detto poverino perché dice si vede non possiamo escludere caro Ellis che qualche volta degli insetti stanchi di vivere si vadano a infilare lì dentro cioè dice dice in effetti non è la pianta caro Ellis che mangia l'insetto è l'insetto che usa la pianta per uccidersi che è una raffinata cambiamento di prospettiva pensate che prima di poter scrivere che esistevano delle piante carnivore dall'inneo quindi 1750 abbiamo dovuto aspettare 120 anni il primo libro lo scrive Charles Darwin e non ha anche lui non ha la possibilità di imporre come titolo piante carnivore lo deve chiamare piante insettivore perché carnivore glielo vietano non era assolutamente possibile e quindi lo chiama piante insettivore anche se si sapeva benissimo già al tempo di Darwin si conoscevano centinaia di specie che addirittura ci sono delle Nepenthes che si conoscevano benissimo al tempo di Darwin che cacciano che riescono a prendere dei ratti da mezzo chilo da un chilo da un chilo e mezzo dipende da quanto sono grandi quindi non sono insettivori ora questa comunque era una parentesi per dire com'è difficile che entrino i cambiamenti che si comincino a percepire i cambiamenti riguardo alle piante pensate che il primo professore di fisiologia delle piante è il figlio di Charles Darwin Francis Darwin diventa professore di fisiologia delle piante a Cambridge ma stiamo parlando degli inizi del novecento perché non c'erano prima i professori di fisiologia delle piante perché le piante non avevano fisiologie un famosissimo botanico tedesco Julius von Sachs presentò una tesi di dottorato nel 1870 roba del genere che si chiamava la fisiologia delle der fisiologie in planten non lo fecero dottorare dicendo perché cosa hai fatto una tesi di dottorato su una cosa che non esiste perché le piante nel 1880 non avevano una fisiologia gli ormoni il fatto che le piante abbiano gli ormoni è una cosa anzi come dire gli ormoni sono stati trovati prima nelle piante eh per esempio nel 1920 sapevamo che nelle piante c'erano gli ormoni non è stato non c'è stata possibilità di chiamarli così perché gli ormoni sono una cosa che hanno solo gli animali le piante hanno una cosa che si chiamano fitoregolatori ora li chiamiamo ormoni per grazia di Dio abbiamo finito e la cosa è continua vi faccio un esempio degli ultimi anni 3-4 anni fa hanno dato un premio Nobel per una cosa che si chiama RNA interference interferenza da RNA e l'hanno dato a un tipo di cui non ricordo il nome perché l'ho cancellato dalla memoria che ha ha replicato ha replicato in maniera identica una ricerca di 20 anni prima su Petunia cioè il fatto che esisteva l'RNA interference in fisiologia vegetale lo sapevamo da 25 anni prima e questa cosa qui non aveva provocato nessun tipo di interesse nessun tipo di premio Nobel o altro quando la stessa identica ricerca è stata rifatta in un verme schifoso che si chiama Cernobitis elegans io so se ci sono dei biologi qui dentro ma insomma è una cosa schifosa e è stato rivisto lì dentro lo stesso meccanismo l'unica differenza che questo schifo di verme ha e che ha 200 erotti neuroni è veramente una cosa ridicola bastano 200 erotti neuroni per fare di questo qui un modello animale e invece le piante no e questi hanno vinto un premio Nobel hanno vinto un premio Nobel ripetendo la stessa cosa questa è una cosa vecchia la maggior parte vorrei che voi aveste chiaro che la maggior parte delle grandi scoperte della biologia sono state fatte nelle piante la cellula è stata scoperta nella pianta la genetica Mendel la scoperta con i piselli nelle piante gli ormoni il potenziale di azione si arriva a delle cose che sono ridicoli i potenziali di azione che sono quelli che funzionano che fanno funzionare il nostro cervello sono stati misurati per la prima volta da Barden Sanderson un amico di Charles Darwin in Dionea in questa pianta qui molto prima che li si misurasse nei neuroni del nostro cervello bene piccolo sfogo in favore delle piante le piante quindi si muovono molto guardate quando noi velocizziamo vediamo delle cose vabbè questo è banale lo sappiamo tutti le piante fioriscono va bene però è un movimento ora andiamo su qualcosa di meno banale guardate che meraviglia che è questo questo è un giovane fagiolo lo vedete c'ha le foglie cotiledonari è appena nato vedete come si muove continuamente fra l'altro con che movimenti aggraziati cioè è proprio bello a vedersi questo questi movimenti non sono movimenti di settimane sono tre ore chiunque di voi ormai tutti i telefonini hanno la possibilità di fare le macchine le macchine digitali hanno la possibilità di fare le foto intervallate mettetele davanti a una pianta una di queste è già e dite gli prendi una foto ogni 5 minuti ogni 10 minuti e poi guardate il filmato vedrete delle cose straordinarie questo è un fagiolo e questi movimenti non sono dei movimenti casuali che non hanno un motivo questo movimento qui serve alla pianta per sentire l'ambiente che ha intorno e ora vi farò vedere come ora le faccio vedere qualcosa che le serve certamente guardate quest'altro allora questi sono questi sono dei girasoli non mi venite a dire che non si muovono ora poi ve lo dico che cosa fanno questi girasoli qui questi qui stanno facendo una cosa stanno facendo una cosa che se fossero dei cagnolini nessuno di noi avrebbe un dubbio guarda come giocano piccoli i cagnolini e invece se voi usate la parola gioco con le piante vi tirano le sedie in testa chi è successo queste piante giocano che cosa vuol dire gioco hanno la stessa funzione che ha per 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 gli animali cioè ha la funzione di far di fare iniziare i rapporti sociali la la comunicazione fra esseri diversi fra l'altro queste sono delle piante sociali girasoli ci sono piante che non sono sociali anche qui noi sempre parliamo di piante ma fra una querce e un girasole c'è la differenza che c'è fra un tirannosauro e una ranocchia cioè ci sono differenze enormi fra le piante queste sono piante sociali se voi prendete un girasole lo fate crescere da solo in un vaso e poi quando è adulto lo mettete lo trapiantate in un campo con gli altri girasoli muore perché non è in grado di essere in relazione con gli altri ha perso questa capacità di relazionarsi la vita sociale delle piante non abbiamo tempo da quant'è che parlo mezz'ora abbiamo ancora mezz'ora la vita sociale delle piante è una vita che è incredibilmente complessa e sofisticata vi cito rapidamente alcuni esempi cure parentali cure parentali sono le cure che noi uomini forniamo ai nostri figli quando questi non sono autonomi nell'uomo possono arrivare ormai oltre i 40 anni tranquillamente lo sappiamo e in effetti abbiamo le cure parentali più lunghe fra tutti poi subito dopo abbiamo altri mammiferi che hanno cure parentali di qualche anno un anno due anni roba del genere ma se voi andate già fra i rettili non trovate cure parentali negli insetti non esistono cure parentali le cure parentali fanno parte di animali superiori perché richiedono come dire una progettualità un'idea di un futuro allora le piante hanno cure parentali lunghe quasi come quelle che un tempo erano lunghe erano per l'uomo potevano arrivare tranquillamente a 15 anni pensate a una piantina a un seme che cade in una foresta la foresta è un luogo buio una pianta che nasce in una foresta prima di poter raggiungere un'altezza sufficiente a fotosintetizzare può passare anche degli anni dipende dalla specie la quercia di prima immaginate di avere una quercia la ghianta cade prima di arrivare a un'altezza tale da poter fotosintetizzare può essere anche un metro e mezzo due metri possono volerci 7, 8, 10 anni in questi anni questa pianta è sostenuta dal clan cioè dalle piante che dividono che la circondano e che dividono con lei lo stesso patrimonio genetico non la specie il clan i parenti questa è un'altra cosa straordinaria cioè le piante cambiano il loro comportamento in funzione del grado di parentela esempio esperimento semplicissimo prendete un vaso prendete due fagioli della stessa varietà e li mettete dentro andate a guardare dopo una settimana dopo dieci giorni dopo due settimane li tirate fuori e vi accorgerete che questi fagioli hanno fatto una cosa classica hanno investito hanno prodotto tanta chioma quanto radici cioè rapporto uno a uno per ogni grammo di foglia o di ramo avete un grammo di radice classico perché sono parenti sono della stessa varietà riprendete in un altro vaso nelle stesse condizioni identiche e mettete un fagiolo di un tipo A e un fagiolo di un tipo B diverso e fate la stessa cosa dopo due settimane vi accorgerete di una cosa straordinaria e immediatamente visibile l'apparato radicale di queste due piante è molto più grosso cioè queste piante hanno tutte e due investito molto di più nell'apparato radicale perché? perché competono competono per il suolo e quindi tendono ad aumentare la quantità di radici quindi comportamenti diversi in funzione del grado di parentela e ora guardate questo filmato se avete ancora dei dubbi che le piante siano in grado di essere sensibili ora questo fagiolo vedete sa che c'è un supporto sulla sua destra sulla destra e cerca di raggiungerlo è ovvio cioè non c'è bisogno di fare chissà quale deduzione straordinaria lo vedete che questo fagiolo sa dove è il supporto cioè sa vuol dire che lo sa non gliel'ho detto io se gliel'avessi detto sarebbe ancora più grossa come scoperta ma non gliel'ho detto lo sapeva lo sapeva di suo e quindi cerca di raggiungere in tutte le maniere questo supporto vedete alla fine prima ancora fra l'altro prima ancora di toccarlo inizia a preparare l'uncino con cui agganciarsi e poi ci riesce ora può essere guardate come i movimenti sono molto più rilassati ora che è riuscito a raggiungere il suo obiettivo ora che cosa dimostra questo filmato semplicissimo e anche di questi filmati non c'è bisogno di nulla questi io li ho fatti nel mio laboratorio con una normalissima camera digitale una macchina fotografica chiunque li può replicare condizioni fisse tutto fisso luce fissa e questo queste piante vi accorgerete che sanno perfettamente dov'è il supporto sanno lo sanno immediatamente si dirigono verso quella direzione lì passano qualche passano qualche pochi minuti veramente quando voi mettete il supporto per pochi minuti in cui ora vi faccio vedere un altro filmato fanno un movimento che serve per sentire cosa c'è intorno dopodiché ci si dirigono come dei fulmini diretti come si fa a dubitare che una pianta sia sapete come si chiama ora questa cosa qui questa cosa qui si chiama consapevolezza ora è è è straordinario doverla applicare oppure ci sarebbe un altro termine ancora più complesso in italiano coscienza è cosciente coscienza vuol dire essere cosciente della propria posizione nello spazio che ci circonda noi uomini noi animali siamo incoscienti in due momenti della nostra vita quando dormiamo e quando siamo sotto anestesia tant'è vero che la coscienza la definiamo per come dire per sottrazione cioè diciamo quando non siamo coscienti non siamo coscienti quando dormiamo e quando siamo sotto anestesia bene le piante dormono e quando dormono non sono in grado di sentire gli stimoli e sono sensibili agli stessi anestetici cui è sensibile l'uomo se voi date del cloroformio dell'etere quello che vi pare a una pianta la pianta si addormenta perde i sensi è incosciente bene ora siccome questo video così semplice e banale appunto fa nascere delle domande molto complesse tipo ma allora che cos'è la coscienza dov'è com'è che si è consapevoli questo video è anche stato molto contestato quando io mostrai la prima volta questo video a un a un congresso in Germania si alzò un sembra che fosse in Germania mi sembra non me lo ricordo più ero fuori all'estero si alzò un mio collega molto famoso e mi disse ma che dici il fagiolo sa dove è il supporto dico sì il fagiolo sa dove è il supporto lo sanno mi disse lo sanno tutti letteralmente che i fagioli crescono sempre verso destra cioè che mi ricordava moltissimo che mi ricordava moltissimo una risposta stupida come quella di Linneo cioè io dissi ma veramente cosa vuol dire crescono verso destra i fagioli si crescono verso si impuntò crescono verso destra lo sanno tutti e tu non mi hai mostrato che non cresce verso sinistra e vabbè non te l'ho mostrato hai ragione però ora ti metto a punto misi a punto un sofisticatissimo esperimento che era quello di mettere di mettere un palo in mezzo a due fagioli la cosa la cosa fu ancora più divertente perché ora perché ne venne fuori un comportamento ancora più sofisticato che ora vediamo che come dire che mostra delle cose ancora più ancora più 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 sorprendenti di quello che vedevamo prima perché prima vedevamo un fagiolo che era consapevole del fatto che c'era un supporto qui vediamo ora questo è ora vi spiego un pochettino che cos'è questo 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 dramma che abbiamo vissuto qui abbiamo praticamente questi due fagioli erano tranquillamente uno accanto all'altro all'inizio e infatti se quando ora lo riguarderemo questo video vedrete che all'inizio tutti e due sono tutti e due tranquilli che fanno il loro ondeggiamento classico che vi ho detto gli serve per percepire ciò che c'è nell'ambiente quindi inizia e li vedete tutti e due così a un certo punto si accorgono che c'è il palo in mezzo e guardate si vede benissimo contemporaneamente tutti e due aumentano moltissimo i loro movimenti dirigendosi tutti e due convergendo verso il palo nel momento in cui uno dei due raggiunge il palo l'altro e qui è l'altra cosa straordinaria guardatelo istantaneamente dopo pochissimo cambia direzione perché perché ha percepito non solo che c'è il palo ma ha percepito che l'altro fagiolo l'ha raggiunto e quindi cerca un'alternativa e quel movimento da pazzo che fa nella seconda parte è perché sta cercando di aggrapparsi a degli spunzoncini che ci sono sullo sfondo poi non ci riesce e abbandona il tutto cioè non si muove più non è che se voi prendete un fagiolo senza niente senza un supporto e nulla fa queste cose da pazzo sta lì perché questi movimenti gli richiedono un sacco di energia quindi lo fa soltanto se può avere un vantaggio ora riguardiamo questo filmato e vi accorgete di quello che che vi ho detto ecco qui stanno sentendo e infatti sono rilassati li vedete ora a un certo punto tutti e due guardate come aumentano i movimenti e cercano di raggiungere tutti e due il supporto guardate che succede quando lui lo raggiunge quell'altro istantaneamente dopo pochissimo cambia direzione e comincia a fare questi movimenti fra l'altro questi sono molto accelerati ma si vede che ha formato l'uncino con cui cerca di aggrapparsi lì sul fondo ci prova e ci prova per molto tempo vedete in tutte le maniere si può vedere veramente lo sforzo che fa per cercare di aggrapparsi e poi alla fine chi va abbandona la cosa perché non è perché abbandona perché non c'è il risultato non ha più convenienza continuare con una cosa del genere gli esaurirebbe tutta l'energia e non avrebbe un risultato quanti abbiamo? Allora in su cento esperimenti novanta volte preferiscono fare una cosa del genere rarissimamente si aggrappano tutti e due però quando si aggrappano tutti e due alla fine anche lì vale la questione siamo parenti o non siamo parenti se non siamo parenti uno dei due muore se siamo parenti cioè le piante questa è un'altra cosa ovvia sono incredibilmente territoriali perché sono così territoriali perché non possono andarsene in giro per cui il loro spazio è il loro spazio combattono per difenderlo per cui quanto? quindici minuti ottimo hai prego allora quindici minuti vi interessa di più in quindici minuti la comunicazione delle piante la comunicazione delle piante allora le piante comunicano moltissimo anche qui voi immaginerete beh l'impollinazione dei fiori si sarà sempre saputa perché si vedevano che questi insetti stavano lì intorno prendevano il poldine lo portavano ma neanche per idea lì per avere un'idea che che ci fosse una riproduzione sessuale nelle piante abbiamo dovuto aspettare la fine del Settecento questo povero prete che si chiamava Christian Corrad Sprengel povero prete perché mal gliene incolse questo Sprengel che era fra l'altro era un prete e insegnava ai ragazzi era un insegnante ed era anche però un valente naturalista per cui guardando la natura si era accorto che gli insetti portavano il polline portavano questa polvere da una pianta all'altra e lui aveva detto sta roba qui secondo me è l'equivalente identico della riproduzione sessuale negli animali in cui c'è il seme maschile che viene riportato in giro sui fiori sugli apparati genitali femminili questa cosa fu uno scandalo gli chiusero lo tolsero dalla scuola lo spretarono gli tolsero lo stipendio il poverino morì di stenti perché aveva detto questa cosa così pazzesca e straordinaria che c'era riproduzione sessuale nelle piante le piante si sa sono lì semplicemente per essere carine con noi ma non hanno niente degli organismi viventi bene e invece le piante è venuto poi fuori non soltanto sono si riproducono sessualmente ma usano gli animali in maniera molto disinvolta per fare questa cosa qui e questa cosa qui è fondamentale per capire come le piante riescono a manipolare attraverso la comunicazione i comportamenti degli animali ora vi faccio vedere la cosa fondamentale base veramente due parole sono il nettare allora tutta l'impollinazione è stata descritta come un mercato in cui ci sono i fiori che fanno la pubblicità i venditori che sono le piante gli acquirenti che sono gli insetti e il bene da trasportare che è sto polline e tutto questo è vero normalmente tutta la questione funziona su queste basi è un vero e proprio affare tu mi porti in giro il polline io ti pago il nettare tutto a posto per fare sta cosa le piante utilizzano non soltanto gli insetti cioè questo affare non lo si fa soltanto con gli insetti lo fanno con gli uccelli con i mammiferi con i rettili praticamente qualunque animale è stato utilizzato o è utilizzato dalle piante come vettore del polline ma ci sono un gru molte 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 piante che invece di fare questo lavoro onesto di scambio bene contro pagamento ingannano completamente gli animali fra queste sono le orchidee le orchidee queste fra l'altro vedete che io continuo a citarvi Charles Darwin anche qui Charles Darwin era essenzialmente un botanico ha scritto sette libri sulle piante eppure quando si parla di Charles Darwin gli si dice che è un geologo un naturalista era un botanico era uno che studiava le piante l'evoluzione come noi viviamo quella cosa che si dice non è nulla ha un senso se non alla luce dell'evoluzione la scoperta un botanico uno che studiava le piante va detta anche questa cosa perché se no sembra che noi stiamo sempre lì a fare i fiorellini no le piante sono una cosa fondamentale e sono stato una sorgente fondamentale di scoperte per l'uomo fra le coffe uno dei libri che ha scritto Darwin era sui vari trabocchetti attraverso i quali le orchidee inglesi e straniere sono fertilizzate dagli insetti quali sono questi trabocchetti ce ne sono tanti lui ne ha scritto un libro quindi immaginate ce ne sono tantissimi quindi già immaginate la fantasia di questo gruppo di piante ma ce n'è uno su cui volevo che soffermaste un attimo la vostra attenzione queste sono delle orchidee molto comuni sono delle orchidee che voi trovate tranquillamente anche qui quando in questo periodo se andate nei boschi in dei boschi diciamo un pochettino intoccati vi trovate questa si chiama office apifera è una una specie selvatica di orchidea molto comune che cosa fa questa orchidea lo vedete subito produce un fiore che serve è una mimè è uno stupendo esempio di mimesi perché è praticamente richiama è un'esca per richiamare il maschio di questo insetto di questi menottero quando vi dico che è uno stupendo esempio di mimesi intendo dire che è uno stupendo come fanno le piante solitamente quando si mettono di buzzo buono fanno le cose molto meglio degli animali perché quando si parla di mimesi si parla sempre del camaleonte dell'insetto stecco di questa roba qui questi sono dei dilettanti sono dei bambini in confronto a quello che è in grado di fare questa office perché questa pianta qui produce una tripla mimesi perché c'è una mimesi di forma c'è una mimesi di superficie vedete questi pelini qui questi pelini qui sono messi qui mica per superficie degli menotteri delle vespe dei bombi è una mimesi odorosa producono gli stessi feromoni che sono prodotti dalle femmine in calore di questo di questi menotteri ora vi faccio vedere che straordinari accappaci queste sono alcune delle numerose specie infatti vedete sono stati chiamati i fiori della seduzione guardate questo bel filmato in cui noi abbiamo il nostro imenottero questo è una vespa non sociale questi sono i menotteri che vivono da soli e questa che vedete è una office eccola qui che sta producendo i suoi feromoni il l'imenottero lo vedete cominci a dire qui c'è roba interessante in giro arriva attenzione guardate lo vedete che tocca per vedere se la superficie va bene va tutto bene lo vedete tocca per benino è molto contento molto contento mentre è così contento guardate cosa fa l'orchidea gli piazza queste due corna le vedete sulla testa queste quei due oggetti lì sopra si chiamano pollini vedete che fra l'altro ora cerca di toglierseli perché qualcosa che non torna qui ma non ci riesce questi questi cosi qui sono due organi si chiamano pollini sono pieni di polline sono delle sacche piene di polline ora lui si riposa un attimo quando è pronto si va ad accoppiare con un'altra orchidea e gli deposita questi pollini sull'apparato femminile provocando la riproduzione attenzione perché questa è uno dei pochissimi casi in natura in cui c'è una relazione fra due organismi viventi in cui non si riesce a capire quale sia il vantaggio per lui a parte quello diciamo immediato perché dunque non ve l'ho portato ma questo perché dov'è il vantaggio immediato perché l'inganno è così perfetto che questi insetti si accoppiano esclusivamente con le orchidee e allora le femmine di questa le femmine della specie sentendo che non ci sono maschi intorno producono una nuova generazione partenogenetica maschile che va ad accoppiarsi tutta con le orchidee e per questo motivo che non si è riuscita a capire il vantaggio cioè qual è come fanno anche a sopravvivere perché chiaramente è una questione locale però dove ci sono queste orchidee questo è quello che succede questo tipo di come siamo messi cinque minuti ci siamo quasi allora questo tipo di ah ve la sto facendo pagare si aspetta tu cinque e mezza questo tipo di inganno che voi avete visto è molto comune questa che è questa è una diciamo è stata è proprio una rappresentazione talmente straordinaria che questo tipo di relazione in inglese siccome non c'è un nome è stata chiamata la relazione dello stupido the dumb relationship proprio per dire perché non si trova il vantaggio evolutivo per la cosa ma moltissime piante fanno cose del genere e come lo fanno e qui andiamo su un ultimo punto che mi prenderà questi ultimi cinque minuti che è particolarmente importante lo fanno manipolando il cervello degli animali attraverso la produzione di sostanze neuroattive ora ci torniamo un attimo su questo punto guardate che cosa fa l'arum l'arum è una pianta molto comune ora questo è l'arum palestinum cresce in palestina ma c'è l'arum italicum è una pianta quello si chiama gigaro in italiano una pianta che trovate comunemente lungo i fossi e questo arum usa come vettore dell'impollinazione l'adrosofila l'adrosofila è il moscerino della frutta il moscerino della frutta lo sapete bene gli piace la frutta marcia quando ci avete una bella pesca marcia ci avete sopra tutte le drosofile che volete noi in laboratorio quando ci servono le drosofile non facciamo altro che lasciare marcire un frutto e aspettare arrivano che cosa fa questo arum palestinum produce un sostanza volatile che vedete va ad attivare alcune zone particolari del cervello dell'adrosofila che le attirano molto e ora vi faccio vedere che cosa fa questo questo è ops scusate no 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 tornami indietro ecco allora questo è un filmatino è un cartone animato per far vedere l'arum produce questa sostanza volatile e la drosofila arriva annusa diceva bello guarda frutta marcia ci si butta dentro al razzo per essere sicuro di essere impollinato l'arum chiude il fiore per cui questo qui questo 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 moscerino deve stare lì dentro tutta la notte durante tutta questa notte vede gira fa impollina porta va su e giù quando è ben sicuro che sta uscendo fa uscire impolline che porta alla prossima pianta apre il fiore e lo libera lui sente altri profumi non gliene frega niente tranquillo quando risente lo stesso schifo di profumo che era ci si rinfila dentro perché non è che siano furbissimi gli insetti ve lo dico perché si dice delle piante ma gli insetti e questo continuano in questa maniera anche in questo caso che avete visto che cosa avete visto avete visto delle piante che manipolano utilizzano degli insetti cioè l'insetto non ne ha niente in cambio da questa relazione due minuti per dirvi che cosa stiamo facendo ultimamente nel nostro laboratorio che penso che possa essere veramente molto interessante una delle cose straordinarie che sta avvenendo fuori negli ultimi anni è il fatto che le piante producono un numero spaventoso di sostanze nevative e questo lo sapete tutte le droghe che lo usa l'uomo dalle più semplici caffeina a teina nicotina teobromina fino a eroina cocaina morfina eccetera sono tutta roba vegetale tutte le droghe sono tutte vegetali anche quelle sintetiche sono state scopiate da molecole vegetali come mai le piante dovrebbero produrre delle molecole che hanno come unico punto di azione una serie un gruppo di neuroni che si chiamano neuroni della ricompensa sono dei neuroni molto antichi che tutti gli animali hanno e sono quei neuroni che si attivano quando noi facciamo una cosa che è buona per la nostra sopravvivenza cioè quel senso di felicità basica proprio che proviamo quando per esempio mangiamo una cosa molto buona o ci fidanziamo diciamo così uso questo termine pulito con la persona dei nostri sogni quel senso straordinario di soddisfazione di bello e dipende da questi neuroni sono questi neuroni della ricompensa che si attivano e che sono fondamentali evolutivamente perché perché sono quei neuroni che si attivandosi e dandoci questo senso di felicità ci spingono a rifare quell'azione che per noi è così importante quindi è per questo che le droghe sono tutte quante così terribilmente difficili poi da combattere perché attivano questo stesso gruppo di neuroni allora c'è da chiedersi come mai le piante sprecano energia perché produrre queste sostanze è costoso per una pianta per indurre dipendenza in degli animali perché poi è questo quello che fanno cioè non è che creano la teoria classica vorrebbe che per esempio la nicotina del tabacco è prodotta dal tabacco per detergere per mantenere lontano degli insetti che vanno lì mangiano la foglia sentono questo amaro della nicotina e non la mangiano più non funziona così il risultato è l'incontrario cioè legano a sé questa cosa qui ecco questa la questione delle molecole neuroattive è molto complessa molto probabilmente le piante utilizzano queste molecole per manipolare gli animali ad ampio spettro giusto qualche mese fa è stato pubblicato un lavoro che mostra un primo risultato in questo senso ci sono delle piante di citrus di agrumi o anche di cacao anche il cacao fa la stessa cosa che sentono quando arriva l'impollinatore cioè aprono il fiore arriva l'impollinatore l'impollinatore sentono la capacità cioè se è bravo a impollinare o meno e se è bravo istantaneamente aumentano nel nettere la quantità di caffeina perché perché così lui prende quel nettere gli si attiva il cervello e si ricorda di quella pianta e ci torna se invece non è bravo rimuovono completamente la caffeina dal nettere e quindi l'insetto diciamo prende sto nettere ma non ha nessuna spinta a ritornare questa è una prima è un primo spunto una prima ricerca che è stata recentemente pubblicata che mostra proprio questa straordinaria attività io credo che nei prossimi anni da questo punto di vista cioè dal punto di vista delle capacità manipolative delle piante nei confronti degli animali verranno un sacco di nuove nozioni io la vostra ora ve l'ho data proprio dalla quantità di polline di granuli pollinici che distribuiscono sullo stimma riescono a sentire proprio la massa della quantità di polline e se è sopra una certa soglia aumentano la quantità di caffeina se è sotto niente grazie mille grazie 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 grazie